Peccato per il risultato, perché penso che un parescio stava bene, ma bisogna continuare a lavorare adesso, sappiamo che questa è la strada giusta e bisogna un po' di tempo. Sì, oggi abbiamo cambiato un po' il modulo, abbiamo fatto molto bene, sappiamo che magari abbiamo bisogno di tempo di lavorare, di mettere a posto tutto, perché ci siamo un paio di nuovi giocatori che dobbiamo ancora conoscere con i compagni, però niente, peccato per il risultato, sono un po' triste per quello, perché abbiamo fatto una partita bella e meritavamo di più. Ecco, una considerazione anche sulla classifica, perché questa squadra ha il potenziale per stare più in alto, ora però effettivamente cinque sconfitte nelle prime sei partite iniziano ad essere un po' tante. Sì, quello lo sappiamo, sappiamo che la classifica non è quella che meritavamo, però è questo oggi, quindi da domani in poi dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere la testa a tutti, e sappiamo che la partita di venerdì contro Sassuolo sarà molto importante, aspettiamo di prendere punti e portare a casa qualcosa.